La banalità del bene di Enrico De Aglio Il libro originario è stato pubblicato da Feltrinelli, nudo e crudo diciamo così, ed è appunto la storia di Giorgio Perlasca. Questo libro nasce dall'intuizione di un giornalista, appunto Enrico De Aglio, che pensò di andare a fondo ad una notizia che altrimenti sarebbe passata inosservata nei trafiletti dei giornali. Andò a cercare vicino a Padova, intervistò Giorgio Perlasca nel 1989 per il suo giornale, che era il secolo XIX. L'anno seguente, nel 1990, andò in onda una puntata storica di Mixer con Giovanni Minoli, ideata insieme con il giornalista Enrico De Aglio. Senza il lavoro quindi di Giovanni Minoli e di Enrico De Aglio, la vicenda di Giorgio Perlasca, già nota all'estero, chissà se e quando sarebbe mai stata conosciuta qui in Italia. De Aglio collaborò anche alla sceneggiatura della Fiction Rai, in due puntate Un eroe italiano, trasmessa intorno al 2002-2003 dalla Rai, che ebbe come protagonista Luca Zingaretti nei panni di Giorgio Perlasca, che, come adesso spiegheremo, in realtà era già morto da una decina d'anni prima di questa trasmissione televisiva, è infatti morto nel 1992. In questa carrellata di testi o sceneggiature della storia di Perlasca, non vogliamo dimenticare il recente lavoro teatrale Il Coraggio di Dire No, la storia di Giorgio Perlasca, spettacolo teatrale di e con Alessandro Albertin, nella foto, della Compagnia degli Incamminati, che è stato rappresentato prima al Teatro Parenti di Milano, poi in tanti altri teatri, noi la vedremo al Centro Asteria di Milano, che è un centro culturale prestigioso, in cui si svolgono spettacoli, appunto, incontri su queste importantissime tematiche, tutto l'anno con il programma, insomma, di spettacoli e di approfondimenti culturali e didattici del Centro Asteria, per i vari ordini di scuola. Dalla presentazione dello spettacolo, proprio nella locandina del programma del Centro Asteria, si legge, Giorgio Perlasca, uno dei più importanti giusti italiani, Perlasca è stato infatti insignito dell'onorificenza di giusto fra le nazioni, ed è stato piantato un albero nel giardino dei giusti a Gerusalemme, il cosiddetto Yad Vashem. Ebbene, Giorgio Perlasca ci ricorda che è sempre possibile, anche in tempi bui, stare lontani dal male banale della comoda obbedienza ad una ideologia. E' un emblema universale, la sua vicenda va conosciuta e trasmessa alle generazioni più giovani, affinché l'ansia del successo, del potere, della fama e della ricchezza, non prevalga sulla ricerca della solidarietà e del bene comune, e quindi di ciò che ci rende uomini. Ecco, ritorniamo al libro di De Aglio, che è l'argomento principale di questo contributo video. Abbiamo detto che si intitola La banalità del bene. Il libro è stato pubblicato nel 1991, quindi dopo aver fatto l'intervista all'articolo di giornale, aver aiutato Giovanni Minoli a realizzare quella trasmissione televisiva Mixer, lui ha scritto il libro, per la Feltrinelli, dicevamo, che richiama il titolo di un altro libro famoso, La banalità del male, di Anne Arendt, che era del 1963. Almeno, in Italia è stato pubblicato nel 1963, pochi anni dopo il processo ad Eichmann. Ecco, per capire questo titolo, La banalità del bene, adesso leggeremo alcune delle dichiarazioni di Perlaska, che differenza qui con le dichiarazioni di Eichmann, adesso le confronteremo. Perlaska dice, l'ho fatto solo perché ero un uomo, ho aiutato a sopravvivere più di 5.000, quasi 6.000 persone, perché semplicemente ero un uomo. Non potevo sopportare di vedere persone marchiate come animali, di vedere uccidere bambini. Lei che cosa avrebbe fatto al mio posto? dice appunto all'intervistatore. Ebbene, sappiamo invece in cosa consiste la banalità del male di Eichmann, il quale davanti ai giudici, che gli chiedevano come aveva fatto a mandare a morire milioni di persone con quel meccanismo perverso che si era creato dopo la conferenza del lago di Vansé in Germania. E lui aveva semplicemente risposto io non ho fatto niente di particolare, ho solo obbedito, è giusto che uno obbedisca agli ordini. Ecco la grande differenza tra la banalità del bene quando uno obbedisce alla propria coscienza e la banalità del male quando uno magari obbedisce a degli ordini superiori senza minimamente rendersi conto di quanto sia disumano quello che sta facendo. Allora, chi è Giorgio Perlasca? È un italiano che si finse diplomatico spagnolo, console spagnolo. La vita di un uomo solo ha lo stesso valore del mondo intero. Questa frase sintetizza diciamo ciò che ha spinto Perlasca ad aiutare queste persone, spesso rischiando la sua vita per salvare anche uno solo di questi ebrei. La storia di Giorgio Perlasca è la storia di un uomo normale che riuscì a salvare oltre 5200 ungheresi, questi avevano proprio il timbro, no? Diciamo così, il documento che li salvava dalla deportazione perché erano ebrei sefarditi e questo erano ebrei spagnoli tra virgolette e questo certificato dall'ambasciata di Spagna in Ungheria, no? Ma poi li ha salvati anche altri, eh? Dicevamo, migliaia di persone di religione ebraica inventandosi un ruolo non suo, quindi a differenza di Eichmann che ha seguito la legge tra virgolette lui ha fatto qualcosa di illegale tra virgolette si è fatto spacciare per ciò che non era uno spagnolo e non era spagnolo era italiano e un console ma avete ben capito qual è il punto qual è il problema cioè l'uomo vero non segue la legge se la legge non è giusta ma segue la sua coscienza inventandosi un ruolo non suo quello di console spagnolo lui che non era né ambasciatore né spagnolo ma la parte più straordinaria della sua vicenda è il dopo la sua storia lui non la racconta a nessuno nemmeno in famiglia per oltre 45 anni tace come un vero giusto o comunque almeno 43-44 anni non dice niente a nessuno se non fosse stato per alcune donne ebree ungheresi che lo ritrovarono a Padova nel 1987 la sua storia sarebbe sarebbe andata dispersa come le storie di tanti altri giusti ma per fortuna non è successo così grazie a queste due ungheresi questa è una foto appunto che ricorda questo momento in cui queste due donne sono andate da Perlaska e hanno rivissuto tutto quello che lui aveva fatto a Budapest a cavallo tra il 44 e il 45 e quindi da lì in poi è riemersa questa storia bellissima questa storia straordinaria ed edificante ma vediamo un po' qual è stata la vita di Perlaska fino alla sua giovinezza lui è nato a Como il 31 gennaio del 1910 dopo qualche mese però per motivi di lavoro del padre Carlo la famiglia si trasferisce a Maserà in provincia di Padova dove morirà anche Giorgio Perlaska come vedremo negli anni venti aderisce con entusiasmo al fascismo nella versione danunziana e nazionalista parte volontario prima per l'Africa orientale e poi per la Spagna dove combatte in un reggimento di artiglieria al fianco delle truppe del generale Franco di là poi quando è stato intervistato Giorgio Perlaska che era convinto di quello che stava facendo gli avevano detto che in Spagna uccidevano migliaia di preti aveva visto che era vero e quindi era contento di combattere contro quelli che uccidevano migliaia di preti nel 1938 tornato in Italia entra però in crisi il suo rapporto con il fascismo essenzialmente per due motivi uno l'alleanza con la Germania contro cui l'Italia aveva combattuto solo vent'anni prima e due secondo motivo più importante più significativo le leggi razziali del 1938 che sancivano la discriminazione degli ebrei italiani scoppiata la seconda guerra mondiale e inviato nei paesi dell'est per comprare carne per l'esercito italiano svolge quindi a Budapest questo ruolo di commerciante di carni essenzialmente l'armistizio tra l'Italia e gli alleati dell'8 settembre del 1943 lo coglie a Budapest sentendosi vincolato dal giuramento di fedeltà prestato al re rifiuta di aderire alla repubblica sociale italiana quindi la repubblica di Salò fascista e viene internato per alcuni mesi in un castello riservato ai diplomatici allora l'Ungheria era invece sotto un regime filonazista filofascista a ottobre 1944 fugge a Budapest e grazie a un documento ricevuto al momento del congedo in Spagna trova rifugio presso l'ambasciata spagnola in questo documento addirittura il generalissimo Francesco Franco in persona riconosceva l'apporto il contributo dato da Giorgio Perlasca nella guerra civile diventa così cittadino spagnolo con un regolare passaporto intestato a Jorge Perlasca e inizia a collaborare con Sanz Britz l'ambasciatore spagnolo di cui vediamo una fotografia nella slide la Spagna assieme alle altre potenze neutrali presenti a Budapest come Svezia Portogallo Svizzera città del Vaticano sta già rilasciando salvacondotti per proteggere i cittadini ungheresi di religione ebraica a fine novembre Sanz Britz l'ambasciatore spagnolo a Budapest lascia Budapest e l'Ungheria per non riconoscere dei ure quindi in base al diritto il governo filo nazista di Stajasi e delle sue croci frecciate ecco qui vediamo una fotografia di questi insomma fascisti ungheresi ungheresi il loro simbolo delle croci frecciate erano tremendi nella repressione degli ebrei e dei dissidenti ancor più delle SS nell'Ungheria del tempo e quindi lui l'ambasciatore lascia Budapest perché non vuole riconoscere questo governo autoritario è qui che Giorgio Perlaska prende la sua decisione dicendo sospendete tutto state sbagliando Sanzbris si è recato a Berna per comunicare più facilmente con Madrid la sua è una missione diplomatica importantissima informatevi presso il ministero degli esteri esiste una precisa nota di Sanzbris che mi nomina suo sostituto per il periodo della sua assenza questa è la bugia detta a fin di bene da Giorgio Perlaska in quella situazione è creduto le operazioni di rastrellamento sono sospese perché ovviamente le croci frecciate nel momento in cui la Spagna non riconosce più il governo ungherese effettivamente avrebbero tutto diritto diciamo legalmente parlando di penetrare nelle case nelle case dell'ambasciata spagnola sono le case protette nelle quali erano ricoverati migliaia e migliaia di ebrei per fortuna con questo stratagemma presentandosi come console diciamo vice ambasciatore diciamo così per Lasca dicendo di essere spagnolo di essere stato incaricato di sostituire l'ambasciatore queste operazioni di rastrellamento sono sospese quelle migliaia di ebrei ungheresi possono rimanere in queste case protette il giorno dopo su carta intestata e con timbre autentici compila la sua autonomina a rappresentante diplomatico spagnolo ovviamente si tratta di un atto che lo pone in grave rischio lui più e più volte può ritornare addirittura in Italia ha i documenti per ritornare in Italia finalmente dalla sua famiglia che non vede da due anni era già sposato ma decide di rimanere lì ad aiutare questi ebrei che hanno bisogno di lui evidentemente perché appunto senza questi atti se vogliamo dicevamo anche illegali queste migliaia e migliaia di ebrei sarebbero stati deportati ad Auschwitz la presenta al ministero degli esteri viene creduto nelle vesti di diplomatico regge pressoché da solo l'ambasciata spagnola organizzando l'incredibile impostura che lo porta a proteggere salvare e sfamare giorno dopo giorno migliaia di ungheresi di religione ebraica ammassati in case protette lungo il Danubio erano giorni quelli gli ultimi diciamo così del regime filo nazista in Ungheria in cui non solo venivano deportati gli ebrei ma anche venivano uccisi ebrei e dissidenti e venivano gettati nel Danubio oggi c'è il monumento delle scarpe a Budapest da visitare perché appunto per ricordare insomma queste persone uccise e gettate nel Danubio li tutela dalle incursioni delle croci fracciate si reca alla stazione per cercare di recuperare i protetti tratta ogni giorno con il governo ungherese e le autorità tedesche di occupazione ecco infatti una delle tattiche più astute di Giorgio Perlaska è quella di presentarsi come amico tra virgolette dei nazisti o appunto di questi fascisti ungheresi delle croci fracciate all'unico scopo però di riuscire a salvare più gente possibile rilascia salvacondotti che recitano parenti spagnoli hanno richiesto la sua presenza in Spagna sino a che le comunicazioni non verranno ristabilite il viaggio possibile lei resterà qui sotto la protezione del governo spagnolo li rilascia utilizzando una legge del 1924 di Miguel I de Rivera che riconosceva la cittadinanza spagnola a tutti gli ebrei di ascendenza sefardita cioè di antica origine spagnola cacciati alcune centinaia di anni addietro dalla regina Isabella la Cattolica sparsi nel mondo molti riempiamo anche noi in Italia di questi ebrei di origine sefardita ad esempio a Livorno e non solo la legge Rivera è dunque la base legale della intera operazione tra cui abbiamo detto abbiamo detto invece illegale organizzata da Perlaska che gli permette di portare in salvo 5218 ebrei ungherese ben già detto questo è il numero assodato degli ebrei salvati con tanto di documenti da Giorgio Perlaska ma ne ha salvati anche altri e di salvare negli ultimi giorni dell'assedio di Budapest Budapest cadrà nelle mani dei russi il 16 gennaio del 1945 una decina di giorni prima che arrivino ad Auschwitz i russi arrivarono a Budapest e di salvare dicevamo negli ultimi giorni dell'assedio di Budapest dalla distruzione il ghetto dove vivevano in condizioni inumane 60-70 mila persone dopo l'entrata in Budapest dell'armata rossa Giorgio Perlaska viene fatto prigioniero è fortunato perché dovete sapere che i russi ad esempio quando sono arrivati a Bucarest cioè la capitale della Romania e hanno occupato l'ambasciata spagnola hanno fatto fuori tutti i diplomatici ambasciatori eccetera spagnoli perché ritenuti ovviamente collaborazionisti filonazisti filofascisti eccetera lui per fortuna viene solo fatto prigioniero liberato fortunatamente dopo qualche giorno e dopo un lungo e avventuroso viaggio attraverso i Balcani e la Turchia rientra finalmente in Italia da eroe solitario diventa un uomo qualunque conduce una vita normalissima e chiuso nella sua riservatezza non racconta a nessuno nemmeno in famiglia la sua storia di coraggio altruismo e solidarietà semplicemente perché riteneva d'aver fatto il proprio dovere nulla di più e nulla di meno se non fosse stato per alcune donne ebree ungheresi da lui salvata in quel terribile inverno di Budapest dicevamo a cavallo fra il dicembre 44 e il gennaio 45 la sua storia sarebbe andata dispersa invece queste donne ragazzine all'epoca delle persecuzioni attraverso il giornale della comunità ebraica di Budapest ricercarono notizie del diplomatico spagnolo fantomatico spagnolo come sappiamo italiano che durante la seconda guerra mondiale le aveva salvate e trovarono numerose testimonianze dei salvati di quegli ebrei salvati da Giorgio perlasca il destino decise che la sua storia uscisse dal silenzio e venisse conosciuta perché abbiamo detto ci sono storie dei giusti che sono rimaste nascoste e tali sono ancora oggi e ora il suo nome si trova a Gerusalemme tra i giusti fra le nazioni è un albero a suo ricordo è piantato sulle colline che circondano il museo dello Yad Vashem museo del memoriale dei sei milioni di ebrei morti durante la seconda guerra mondiale con l'olocausto la Shoah ma anche dove c'è questo giardino dei giusti ad ogni giusto viene dedicato un carrubo una pianta umile ma perenne duratura ecco a testimonianza cioè una specie di simbolo dell'umiltà della semplicità della banalità appunto del bene di queste persone che però rimane nel tempo non una pianta appariscente non un cipresso o una quercia ma un carrubo la storia di Giorgio Perlasca dimostra come per ogni individuo è sempre possibile fare delle scelte alternative anche nelle situazioni peggiori in cui l'assassinio è legge di stato e il genocidio parte di un progetto politico a chi gli chiedeva perché lo aveva fatto rispondeva semplicemente ma lei avendo la possibilità di fare qualcosa cosa avrebbe fatto vedendo uomini donne e bambini massacrati senza un motivo se non l'odio e la violenza Giorgio Perlasca è morto poi il 15 agosto del 1992 sono arrivati appena in tempo diciamo queste donne ungheresi a far emergere questa storia dall'anonimato perché era già molto anziano vecchio e pochi anni dopo è morto è sepolto nel cimitero di Maserat a pochi chilometri da Padova ha voluto essere sepolto nella terra con al fianco delle date di nascita nel 1910 di morte nel 1992 un'unica frase giusto fra le nazioni in ebraico qualcuno poi però ha aggiunto questa scritta significativa chi salva una vita salva il mondo intero capite com'è importante non essere indifferenti di fronte al male cercare di obbedire alla propria coscienza e non alla legge se la legge è ingiusta se la legge ci invita ad esempio a sopprimere l'altro uomo seguire invece la voce della coscienza che ci dice di salvare la vita prima di tutto il suo testamento spirituale può essere riassunto in questa frase che costituisce anche la fine di questo nostro video contributo è quello che ci vuol dire e quindi rimanga come conclusione della nostra riflessione vorrei che i giovani si interessassero a questa mia storia unicamente per pensare oltre a quello che è successo a quello che potrebbe succedere e sapere opporsi eventualmente a violenze del genere ecco l'insegnamento che è l'insegnamento della giornata della memoria cioè fare in modo cari giovani cari ragazzi che non possa mai più accadere una cosa del genere e questo partendo da quello che noi facciamo ogni giorno anche semplicemente nei gesti onesti e leali sinceri nella coraggio insomma che dimostriamo ogni giorno responsabilmente nella nostra vita così si diventa giusti cioè giorno per giorno non si tratta di fare azioni eclatanti ma si tratta di essere sinceri onesti leali e attenti all'uomo attenti all'umanità nei gesti della nostra vita quotidiana altri video didattici su a tuttascuola punto it a tuttascuola a tuttascuola a tuttascuola Grazie.